Un grande artista, io lo ritengo il più grande artigiano della cultura che oggi abbiamo mai avuto a Firenze. A Palazzo Borghese, premio Firenze produttiva. La Camera di Commercio di Firenze ha assegnato i premi alle categorie di persone e istituzioni che hanno dato lustro a Firenze e alla sua imprenditoria. Noi premieremo un numero importante di aziende che ormai esistono da oltre 50 anni, ma quello che secondo me è innovativo è premiare quelle aziende che a vario titolo portano avanti, lo hanno portato e continuano a portarlo, il brand Firenze. Non solo, quest'anno c'è una sezione nuova di organismi e le personalità che a loro modo, nelle loro dimensioni, anche questi concorrono a portare alto e nuova di Firenze. L'iniziativa di stamattina ha anzitutto un valore simbolico che è quello di premiare le imprese e i lavoratori che da più tempo sono sul campo e che sono riusciti a rimanere sul campo e a superare momenti difficili, sicuramente anche precedenti la crisi di oggi. La crisi di oggi ha caratteristiche particolari, anche diverse, molto più difficili rispetto a quelle del passato e quindi l'iniziativa di oggi ha davvero un valore simbolico, serve a testimoniare che Firenze c'è, che c'è la Firenze del lavoro, che c'è una Firenze produttiva che tutta insieme può superare la crisi. Quello che emerge da questa iniziativa che abbiamo voluto fare qui a Firenze, che ha voluto fortemente la Camera di Commercio, è quello di mettere in luce che in questo territorio ci sono molte aziende, un numero consistente di aziende che hanno una longevità importante. Questo vuol dire quindi che c'è un tessuto che ha generato una forza produttiva importante, ma la cosa ancora più importante è che in un momento di internazionalizzazione noi potremmo essere un territorio che attrae anche per l'alto valore professionale delle nostre risorse umane. Firenze ha grande eccellenza, ha grande eccellenza produttiva, ha grande eccellenza nel mondo dell'arte e della cultura e quindi è una delle realtà che riesce a reggere di fronte alla crisi, che riesce a esportare in maniera molto consistente pur avendo aziende che vivono le difficoltà. E quindi questo premio è anche un'iniezione di fiducia rispetto al futuro perché si dà un riconoscimento ai lavoratori di imprese che hanno fatto ricca la nostra regione e soprattutto si dà anche un segnale alle imprese rispetto a qual è il percorso da portare avanti, che è un percorso di innovazione, è un percorso di valorizzazione delle competenze umane e intellettuali all'interno delle aziende. Grazie a tutti i nostri spettatori